E' lunedì 6 luglio, buongiorno, il primo appuntamento della giornata con l'informazione di Telemulisi in apertura del Tg del nostro, Tg del mattino, parliamo di una nuova tecnologia di avanguardia si chiama PET, è stata introdotta al Neuromed di Pozzilli, riduce al minimo l'impatto delle radiazioni ai tempi di esecuzione dell'esame e la nuova frontiera della medicina personalizzata finalizzata ad offrire cure su misura ad ogni paziente. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Esami più rapidi, più precisi e con meno radiazioni, ma soprattutto cuciti su misura sul paziente, così come suggerisce la nuova frontiera della medicina personalizzata. Ogni persona è diversa dall'altra e per questo ha bisogno di cure mirate. Per il Neuromed questo discorso vale non solo nel campo della ricerca, ma anche per gli esami diagnostici. Nella sezione di medicina nucleare dell'Unità di Neuroradiologia e Diagnostica e Terapeutica è stata infatti attivata una nuova PET-TC, una sigla che indica la combinazione di due esami, tomografia e emissione di positroni e TAC. Le tecnologie di avanguardia impiegate portano a una più alta precisione delle immagini, a una minore esposizione alle radiazioni e a esami in tempi più rapidi. Permettono di ottenere questi risultati l'elevata sensibilità dei rivelatori e l'impiego dell'intelligenza artificiale per l'elaborazione dei segnali rilevati. Tutto questo, ha spiegato Gabriele Ciccariello, della medicina nucleare del Neuromed, consente di individuare meglio e più precocemente i problemi, in modo da dare agli specialisti maggiori opzioni di trattamento. Ma non solo. Questo nuovo strumento ci permetterà di accorciare ulteriormente le liste di attesa, che con un tempo di 7, massimo 10 giorni, sono già a livelli eccezionali, ha commentato Marcello Bartolo, direttore dell'Unità di Neuroradiologia, Diagnostica e Terapeutica. Innovazione, ha commentato Fabio Sebastiano, consigliere delegato dalla ricerca del Neuromed, non significa solo acquisire strumenti sempre più avanzati, ma anche integrarli in un ambiente professionalmente e umanamente rivolto con costanza allo sviluppo scientifico e tecnologico. E questa fusione tra le macchine e il lavoro dei professionisti ha concluso il vero punto di forza. Adesso l'aggiornamento consueto sui dati dell'emergenza coronavirus in Molise. Negativo l'esito degli 87 tamponi processati nella giornata di ieri. Situazione dunque che in regione rimane invariata. Restano ancora 21 le persone positive, i guariti invece sono fermi a 401. Ed è tutto per il nostro Tg del mattino. Adesso la nostra rassegna stampa che iniziamo come ti consueto, andando a vedere i titoli del giornale del Molise.it. L'apertura, mozione di sfiducia a Toma, spartiacque della legislatura domani in consiglio regionale. La discussione, aggressione omofaba, pescara i danni di un giovane molisano. C'è una denuncia, trasporti, corse cancellate. Gruppo di ragazzi di Campobasso restano a termoli fino alle 22. La consigliera regionale del PD Fanelli dice stop ai disservizi. 5 stelle, trasporto pubblico, soldi solo alle aziende e niente ai lavoratori. Poi per quanto riguarda i titoli in evidenza vi segnaliamo questo. Isernia, ordine degli avvocati. Leggiamo donati un videolaringoscopio ed un ventilatore polmonare al veneziale. e poi gli altri titoli vi segnalo in evidenza ancora sul giornale del Molise.it nella sezione editoriali idee ed opinioni, un editoriale della nostra direttrice Emanuela Petescia. Le scelte autodistruttive della Lega in Molise, il titolo dell'approfondimento. Vediamo adesso anche i titoli di futuro Molise. L'apertura a spaccio di droga, arrestato dalla polizia, un pregiudicato termolese di 23 anni. Campobasso colpisce nel segno musica in città, intanto a Villa de Capua, per il primo concerto della rassegna estiva. Ancora discreto successo per il primo sciopero nazionale unitario della sanità pubblica, privata e del terzo settore, proclamato dall'USB Molise. è stato poi ancora, si torna sul festival, sulla rassegna a Villa de Capua e ci sono questi altri titoli. Nuova linfa per la questione di Sernia, per la questura di Sernia. Dieci nuovi poliziotti in provincia. Il Museo e due misteri di Campobasso, candidato fra i luoghi del cuore FAI 2020, si può votare. La comunità di Bagnoli del Trinio ha festeggiato i cento anni di Giuseppina Tiraburri. Questi titoli in evidenza dunque di futuro Molise. Andiamo adesso a vedere i titoli della prima pagina del quotidiano regionale primo piano in edicola oggi. Toma sulla graticola. L'apertura è dunque politica. Summit di maggioranza per superare la sfiducia. centrodestra in conclave dalle 17.30 a Palazzo Vitale. Domani la mozione del PD e il Movimento 5 Stelle. Unico argomento all'ordine del giorno del Consiglio. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione. Sotto la testata sisma del 2018. Dopo due anni non c'è ancora un commissario post ricostruzione. I sindaci del cratere alzano la voce. E poi inquinamento a Benafro. Sforamenti nella piana in pieno lockdown. Il dossier dell'ARPAM. Colpa delle polveri del deserto del Caucaso. E poi l'editoriale Fra Mare e Monti. Il Molise che non c'è a firma di Pasquale Damiani. E poi leggiamo l'emergenza Covid. Bollettino coronavirus da dieci giorni zero contagi. In regione non si registra alcun contagio da coronavirus. I positivi, lo abbiamo detto anche nel nostro Tg, restano 21. Costa e Doratino. Un incidente con la moto nella cunetta. Grave un uomo di 45 anni. E poi vedete quest'altro titolo. Il furto. I ladri visitano la sede di Bruxelles, ovviamente della regione Molise. Pedopornografia online. La maxinchiesta tocca pure il Molise. Il blitz di Pol Post e Procura di Torino ha portato a decine di perquisizioni. Sequestrette arresti tra le vittime, anche neonati. Ci sono poi titoli di sport. Basso Girardi, Fabio Prosperi, indiziato numero uno per la panchina. Boiano, gentile, società inattivo. Ma servono aiuti per continuare. Dunque questi i titoli del quotidiano regionale primo piano Molise. Uno sguardo adesso alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Oggi le dico. Andiamo ad aprire la nostra rassena dei quotidiani nazionali. Come di consueto con il Corriere della Sera si parla di prospettive e di decisioni del governo per quanto riguarda l'economia. Meno tasse, più treni e buoni internet. Così il piano per l'Unione Europea. Gualtieri, il ministro dell'Economia, dice nessun condono e scuole connesse le riforme per il Recovery Fund da 173 miliardi di euro. E poi ci sono queste fotonotizie, queste notizie con fotocontrolli, la Movida che cancella le mascherine. Questo è un assemblamento di giovani davanti a locali di Vialecco, uno dei luoghi della Movida milanese. È un baretto in zona Ponte Milvio, chiedo scusa, a Roma, affollato di clienti senza mascherina. La politica di Maio al PD, basta attenzioni o si va a sbattere. Vediamo anche i titoli di Repubblica. Il MES è una trappola, il virgolettato è riferito ad una intervista al segretario dell'Unione Europea del Fondo Salva Stati. Né Troica né Austerity, fiducia a Roma se userà i soldi di Maio, nessuna battaglia ideologica. Governo nel piano di riforma nazionale, 32 miliardi alla sanità. Franceschini, dice Conte, maggioranza non si toccano grave dividersi alle regionali. E poi Palamare, il mistero del Lido in Sardegna con il prestanome, l'inchiesta ancora sul giudice. E poi c'è questa foto che ieri ha fatto il Giro del Mondo dei piloti di Formula 1 in ginocchio per Floyd. Non tutti i piloti, alcuni, e lo vedete in foto, hanno deciso di restare in piedi, anche se tutti hanno affermato e hanno sostenuto la battaglia contro il razzismo. Per quanto riguarda i titoli di Repubblica, vediamo anche quelli del Fatto Quotidiano. Il titolo principale è questo, sua sanità, non solo Alfano e Maroni, nelle cliniche anche lì 007. Il gruppo Sandonato di Rotelli ingaggia perfino il numero 2 dell'Aise. E poi sotto la testata al piano del governo, più investimenti nei suoi contone, 7 miliardi alla scuola. Media parte Erdogan si è fatto la nuova polizia, vigilerà sulla fede. E poi il fatto economico, influencer, fare i soldi con minorenni e spot. Spedicato, parla il chitarrista De Negramaro dopo l'emoragia, ricorderete che lo ha colpito nei mesi scorsi, Lele, mi sono ripreso tutti i sogni. Questo quanto dichiarato tra l'altro in una intervista. La prima di Libero, adesso apre così al Papa, tocca benedire i gay, altrimenti con la nuova legge rischia grosso, in seminario niente omosessuali, nozze fra persone dello stesso sesso, non esiste. Terribile dire ai bimbi che possono cambiare genere. Se passa il testo anti-omofobia, indagano Francesco. Questo è quanto sostiene Libero. E poi una vita pericolosa, Emilia Fede è ascesa e caduta di un mito. Regione in fermento, Stefano Bonaccini dell'Emilia Romagna. Il nord va sfruttato, il sud ora aspetti. Si dice giustizia in come Antonio Di Pietro. Nel caso Palamara ricorda Tangendopoli. Poi c'è un'intervista a Raffaele Fitto. Puglia piena di soldi, li farò sbloccare io. Ovviamente già si parla e si è in campagna elettorale. Per quanto riguarda le regionali in Puglia. E poi Gerardo Colombo, attenti ai moralisti, sgarrano come Matti dice l'ex magistrato di Mani Pulite. Vediamo anche i titoli del messaggero di Roma. Questo è il titolo principale. Appalti, procedure più veloce. Stasera il Consiglio dei Ministri. Gare semplificate per tutte le infrastrutture. Abuso d'ufficio. Solo se c'è dolo. Nel piano di rilancio per l'Unione Europea. Niente condoni, ma ci saranno tagli per IVA e tasse sul ceto medio. Poi anche qui la foto dei piloti di Formula 1. E c'è in evidenza quest'altro titolo. Roma arrivi da paesi a rischio. Tampone d'albergo per 24 ore. L'Asio ordinanza anche per i transiti Schengen. Il Ministero estenderà il TSO ai pazienti ribelli. Vediamo anche i titoli dell'altro quotidiano di Roma. Il Tempo. Tornano i violenti e l'apertura. Chiodi da guerra sull'autostrada percorsa dalla polizia per arrivare al cantiere della TAB. Tragedia sfiorata e con la crisi sociale alle porte tensioni e violenze possono solo peggiorare. Sarà uno ad uno ad alto rischio. Titola Il Tempo. La vacanza sul barcone. A sinistra non è più di moda. E c'è quest'altro titolo dunque. Andiamo a vedere ancora una sfilza di rinforme impossibili. Il libro dei sogni di Conte fa cazzotti con la realtà. Il paragone. Truffati dalle banche ed ILVA. Altre due promesse a vuoto. tolti dal decreto rilancio. I soldi per i terremotati non arrivano neanche stavolta. Ed erano e sono i titoli del Tempo di Roma in edicola. Andiamo adesso a vedere il quotidiano di Torino. La stampa. L'apertura Covid. Lo tsunami abbatte anche il PIL delle regioni. Il Banco Italia fotografa la crisi. Colpite non solo le imprese. Gravi danni in Piemonte. E poi a centro pagina questa notizia. Focolai nei macelli e nei salumifici. Nel Mantovano ci sono 68 positivi. E quindi si apre questo nuovo focolai. Ovviamente si parla dell'emergenza coronavirus. La verità. Andiamo a leggere il titolo di apertura. TSO agli italiani. Via libera ai migranti. Ricattare paga. La ONG esulta. La OSEAN Viking oggi in Sicilia. Ma a buona parte del PD non basta. Ora cambiamo i decreti. Sicurezza dicono. E mentre la grande maggioranza dei nuovi contagi arriva dall'estero. Il ministro Speranza studia norme più dure per i connazionali ribelli. E poi c'è un mistero in Vaticano. Titola la verità. Dal discorso del Papa sparisce Hong Kong. L'ANM censura un articolo della verità. Nella rassegna stampa manca il nostro pezzo su Pignatone. I giudici dicono omissione inspiegabile. E dunque questi titoli principali della verità. Vediamo anche quelli del Sole 24 Ore. In apertura della edizione di oggi c'è il focus sul gradimento di governatori e sindaci. Zaia è la star dei governatori. De Caro vince tra i sindaci. 18 regioni. 4 presidenti più popolari sono del centro-destra. 105 città sul podio De Luca. Il sindaco di Messina, Gori di Bergamo e Bucci di Genova. Crollo dei leader del Movimento 5 Stelle. Raggi penultima ed Appendino 97esima. Al condominio il tesoro del 110%. Il super bonus ormai famoso sulle ristrutturazioni che mirano a migliorare l'efficientamento energetico. Si prepara al via Ollus e società sportive dilettantistiche. Fra i beneficiari cade l'esclusione delle seconde case e tetti di spesa modulati in base al tipo di edificio. E poi boom di supplenti a rientro in classe verso quota 250 mila. I titoli principali del Sole 24 ore. Vediamo anche quelli del secolo.it. Divisi su tutto l'apertura. Botte da orbi fra Orlando, Gori ed Orfini. Per quanto riguarda quanto sta avvenendo a sinistra tra Partito Democratico ed altri movimenti e partiti che si sono staccati. Nel Partito Democratico la solita lotta intestina sulla leadership. O meglio, questo è quanto sta avvenendo appunto per quanto riguarda la lotta alla leadership. Primo piano, le pensioni di invalidità aumentate grazie a Fratelli d'Italia. Osean Viking conte cede e fa sbarcare 180 migranti. Ancora violenze notab, chiodi contro la polizia. Chiudiamo la nostra rassegna come di consueto con la Gazzetta dello Sport. Sport, apertura dedicata alla situazione Inter con la sconfitta interna a San Siro. Il Bologna vince 2-1 ed è bufera. Piazza pulita Inter, furia di Conte. L'allenatore tutti sott'esame c'è da dimostrare di meritare questo club. Altrimenti è giusto prendere altre decisioni. Da Gagliardini a Godin a Vesino, ecco chi andrà via. Gioara Barrova si inizia i suoi ragazzi in Gambia per quanto riguarda invece il fronte Bologna. Gaspa arriva, insigne c'è Atalanta meno uno dal terzo posto e Napoli vola al quinto. La Roma è agganciata ma ritrova Zaniolo. E poi Milan e Juve che intrighi. Pioli un'euro scalata per il lungo addio. Iguain e Bonucci ex diavoli da Scudetto. Per quanto riguarda invece la foto dei piloti di Formula 1, la Gazzetta dello Sport titola così Leclerc in piedi, Miracolo Ferrari è secondo. Adesso praticamente facendo riferimento anche al fatto che Leclerc è rimasto in piedi durante questa foto che vedete a destra ma tiene in piedi la Ferrari con un Miracolo è secondo e non si incinocchia con Hamilton. Questi sono i titoli principali della Gazzetta dello Sport con cui chiediamo anche questo nostro primo appuntamento con l'informazione di Telemulise del mattino. Vi ricordo il prossimo il telegiornale alle ore 14. A voi tutte e tutti buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.